La comunità di Marostica saluta un suo concittadino speciale definito il primo in virtù della ruolo storico di sindaco nel quinquennio 85-90. Si è spento nei giorni scorsi aliprando Franceschetti 88 anni per 20 anni ininterrotti e presente nell'amministrazione comunale locale a lungo figura di spicco nella politica locale nelle file dell'allora democrazia cristiana. In carica dai primi anni 70 fino al 1990 dopo aver indossato già da giovane la fascia tricolore si era ritirato dai compiti di governo cittadino ma in vista della pensione in ogni caso rimanendo attivissimo in più ambiti culturali. Sul piano professionale è stato un insegnante rinomato professore di matematica a ruolo ricoperto per decenni che lo rese ancora più conosciuto a Marostica dove insegnò alle medie e all'istituto d'arte di nuova. Era un uomo di cultura 300 160 gradi appassionato di storia e filosofia a ricordarlo tra i primi il suo successore attuale Matteo Mozzo. La data del funerale sarà ufficializzata nelle prossime ore e sai probabile che la cerimonia solenne sarà programmata per lunedì. Appare scontata la proclamazione dell'ulto cittadino.